ben ritrovati nuovo su review you oggi vado a mostrarvi la pinza per teglie della marca paderno comprata su amazon vi lascio sempre il link in descrizione non è il primo articolo che acquisto ho comprato e recensito infatti lo trovate sul canale la mia recensione questa spatola per la pizza ideale appunto se avete anche la spianatoia in acciaio allora andiamo a vedere questa pinza che serve per togliere le teglie se avete già visto la recensione ho recensito queste teglie ideali per forno f1 40x50 e ovviamente per andare a togliere è necessario usare una di queste pinze a meno che non vi ingegnate avete un metodo alternativo devo dire che già come si presenta è bella resistente io devo dire anche la spatola la uso ormai da tanti mesi ed è funzionale ma andiamo a vedere appunto questa questa pinza allora devo dire che l'ho pagata 14 euro scontata quindi guardate sempre qui sotto dal link il prezzo e 14 euro devo dire che sono davvero abbordabili sul retro ci sono anche gli altri utensili che l'azienda appunto vende come vedete c'è il marchio alimentare quindi materiali che non non pregiudicano la salute una volta che vengono usati il manico è davvero robusto è anche pesante non è leggerino quindi si tiene bene in mano questo va anche a isolare appunto il calore la parte sul retro si presenta così bella spessa ci sono almeno 2 3 mm e questa parte qui è la parte in cui si va a prendere la spianatoia cioè la spianatoia scusate la teglia e la si va a tirare fuori questa parte qua in basso invece dovrebbe fare andare sotto appunto la teglia andiamo a provarla subito quindi immaginatevi di togliere la vostra teglia dal forno andate appunto a prenderla e come si aggancia qua tirate indietro e come vedete tiene tranquillamente un attimo acquisto sicuramente indispensabile vi lascio il link in descrizione e vi lascio alla prossima recensione grazie a tutti